In questo periodo stiamo disegnando in maniera un poco diversa, non che questa sia una cosa di cui preoccuparsi, anzi, e non che la cosa sia molto diversa ovviamente, è solo un principio di libera espressione e quindi di evoluzione. Proviamo quindi a vedere come. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.